ok buongiorno a tutti sono vincenzo barbieri di planet italia e con me oggi c'è la professoressa giustina secondo buongiorno giustina buongiorno buongiorno allora oggi siamo qui perché vi vogliamo introdurre a un'opportunità di assegno di ricerca che l'allume ha promosso insieme a planet italia nell'ambito del bando riparti quindi è un bando regionale e consente di poter acquisire una borsa di ricerca di 18 mesi ma adesso do la parola a giusi stessa secondo perché ci darà un po di informazioni su questa borsa sì grazie enzo grazie per la parola allora intanto partiamo dal dall'annunciare il titolo della borsa di ricerca dell'assegno di ricerca il titolo è data driven marketing for apulia aerospace smith in che cosa consisterà l'attività di ricerca intanto partiamo dal presupposto che l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese operanti nel settore aerospaziale richiede lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi nuovi processi produttivi ed inoltre è fondamentale sottolineare come i prodotti realizzati dalle piccole e medie imprese del settore aerospaziale siano dei prodotti a forte connotazione tecnologica pertanto la promozione di tali prodotti richiede in un certo senso sia competenze di natura tecnologica ma anche skill di comunicazione inserito in questa premessa il progetto di ricerca avrà la finalità di sviluppare coerentemente con i principi della trasformazione digitale dei fenomeni delle metodologie a supporto del marketing delle piccole e medie imprese operanti nel settore aerospaziale in particolare il candidato o la candidata sarà nelle condizioni di sviluppare una metodologia e di un processo completo che consentirà le piccole e medie imprese di attivare una comunicazione internazionale utilizzando le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali quali le tecnologie social linkedin e tutti gli altri strumenti oggi in possesso delle piccole e medie imprese il candidato inoltre dovrà immaginare in quale misura e in quale modo i leads quindi i contatti generati dall'utilizzo delle tecnologie digitali potranno effettivamente consentire alle stesse imprese di migliorare il proprio fatturato di migliorare le proprie performance e chiaramente di conseguenza di avere accesso a mercati internazionali perfetto sì questo diciamo questa ricerca per noi è molto interessante perché abbiamo voluto promuovere insieme al numero proprio per questo motivo noi siamo una planet che è un'azienda del settore aerospaziale siamo circa 100 persone dislocate a bari e ad atene e ci occupiamo di erogare servizi che utilizzano dati tele rilevati da satellite quindi noi facciamo monitoraggio dell'ambiente del territorio degli asset utilizzando dati tele rilevati abbiamo lanciato sette anni fa un'iniziativa un progetto reticus che mette in piedi servizi di monitoraggio standardizzati e stiamo promuovendo l'internazionalizzazione della planetech promuovendo l'erogazione di questi servizi a livello internazionale e ad oggi reticus è utilizzata praticamente in tutti i continenti abbiamo clienti in nord america sud america in asia in oceania quindi quello che adesso vogliamo fare utilizzare cercare di formalizzare di standardizzare un processo che ci possa consentire di poter andare direttamente a fare vendita diciamo fondamentalmente a livello internazionale riuscendo a raggiungere dei mercati geograficamente lontani ma anche verticali e quindi l'iniziativa prevede da uno studio di come utilizzare gli strumenti social per esempio linkedin che è quello più importante ma anche a monte cercare di capire se queste metodologie sono applicabili in alcuni contesti geografici in alcuni mercati verticali perché se poi non si usa linkedin diciamo la tecnologia poi non serve applicabile quindi è tutto uno studio che parte dalla fattibilità iniziale fino a raggiungere la produzione di tpi di indicatori che ci consentono di capire poi la validità dell'attività che stiamo svolgendo quindi è un supporto tutto tondo al nostro processo di internazionalizzazione a questo punto sarà il caso di dare qualche informazione in più diciamo sul sul bando sì intanto porto col dire che le attività di ricerca verranno realizzate all'interno del laboratorio di ingegneria economico gestionale eh del dipartimento di management dell'università LUM Giuseppe De Gennaro le attività di ricerca ovvero l'assegno di ricerca avrà una durata complessiva di diciotto mesi e vedrà il candidato o la candidata operare a stretto contatto quindi lavorare a stretto contatto con l'impresa e con la stessa università nel ehm specificatamente inoltre c'è da dire che le attività verranno svolte all'interno dell'impresa per una durata complessiva di sei mesi i restanti dodici mesi verranno svolte all'interno dell'università LUM ma vediamo come partecipare per poter partecipare è necessario compilare la domanda di partecipazione disponibile all'indirizzo www.lum.it ovvero sul sito dell'università LUM nella sezione Ateneo nella sottosezione bandi e concorsi il potenziale candidato o candidata che cerchiamo dovrà essere un candidato in possesso di una laurea magistrale specialistica o di vecchio ordinamento in ingegneria gestionale ingegneria informatica marketing o economia e chiaramente la commissione valuterà l'esperienza professionale eventualmente posseduta dal candidato eventuali titoli disponibili quali per esempio le pubblicazioni scientifiche al candidato infine richiesto di indicare in maniera molto sintetica di immaginare in maniera molto sintetica eh come vorrà svolgere la propria attività di ricerca ovvero gli obiettivi da raggiungere per qualsiasi informazione non esitate ad inviare anche una mail alla sottoscritta all'indirizzo secondo chiocciolalum.it Benissimo ovviamente se ci sono dei candidati eh di tutta Italia che hanno anche dei titoli di studio che non sono perfettamente allineati a quello che sono le richieste ma ritengono di avere le competenze che possono mappare bene con quelle che sono gli obiettivi di ricerca vi invitiamo comunque a mandare la vostra candidatura dopodiché la commissione sarà in grado di poter valutare effettivamente la coerenza del curriculum dei candidati rispetto agli obiettivi. Credo che con questo abbiamo concluso ringrazio la professoressa Secondo per questo breve eh diciamo videoclip e vi invito a mandare i vostri le vostre candidature. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie a tutti.